Allora ragazzi, siete contenti della ciclabile che vi abbiamo fatto? Sì! È bellissima? Sì! Bene, mi raccomando, continuate a praticarla questa ciclabile, perché è la vostra ciclabile. Allora ragazzi, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Allora ragazzi, devi buttare in séstory. Allora? Allora ragazzi, devi buttare. Allora ragazzi, devi buttare l'amore, inserire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.